La regista di orgoglio e pregiudizio Conosci da molto il conte Bronsky? È un ricco e bello ufficiale di cavalleria Una relazione proibita Ballate con me E un'indimenticabile storia d'amore Tu sei mia moglie Tu non rivedrai più quell'uomo Sarà rovinata Tu sei una donna senza onore Io ti amo Perché? Non si chiede perché in amore Anna Karenina Da giovedì 21 febbraio al cinema